ciao a tutti ragazzi buongiorgi a tutti giorgi e buon match tra tutti gli altri oggi sono qui in un breve breve video per darvi delle piccole news allora delle piccole news nel senso che nel canale per un po di tempo e non so quanto arriveranno solo ed esclusivamente i miei video solo ed esclusivamente i miei video perché peppe purtroppo ha dei problemi grossi con la connessione nel senso che gliel'hanno staccata non si sa perché non si sa per come gliel'hanno staccata e quindi non riesce a caricare video perché avremo anche un video da diversity pronto ma siccome lo deve upare lui appunto questo video non può essere caricato quindi nel frattempo io cercherò di caricare più video possibile oggi uscirà un video di payday insieme a blink cercherò di far uscire anche qualcos'altro oltre a questo video e quindi due video ma non credo e poi volevo dirvi che ragazzi che ci saranno dei cambi sul canale nel senso che tra un po o meglio quando ritornerà peppe decidendolo con lui faremo un blog dicendo la programmazione del canale perché ragazzi dobbiamo praticamente costringervi a guardare i nostri video no ragazzi scherzo non vi dobbiamo costringere ma siccome diciamo il watch time del canale si è abbassato probabilmente youtube per un nuovo calcolo suo non manda i nostri feed quindi ragazzi in pratica veniamo consigliati agli iscritti e neanche a tutti quindi dovremmo fare una programmazione con il programma del video che esce lunedì il programma del video che esce il martedì eccetera 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 e anzi in questo io vorrei chiedere un aiuto a voi ragazzi diteci voi quale video vorreste che uscissero quale serie e in quali giorni ovviamente nel limite del possibile ragazzi l'unica cosa che vi dico di per certo sono gli orari di uscita dei video quindi sappiate che ogni giorno o alle 15 o alle 16 o alle 17 uscirà un video non può essere in tutti e tre gli orari o in uno dei tre gli orari perché purtroppo appunto essendo adesso da solo a fare il video non riesco a caricarne comunque tre e se ci riesco ci riesco per un giorno due perché purtroppo ragazzi sapete che il mio pc non regge lo sforzo quindi ragazzi per questo aggiornamento è tutto spero che abbiate pazienza fino a che ma peppe non ristabiliscano la connessione probabilmente ha litigato con i suoi parenti in fast web quindi gli hanno tolto la connessione e quindi no vabbè ragazzi a parte tutto speriamo che peppe dormi presto speriamo di ricominciare velocissimi con i video di pubblicarne anche tre quattro al giorno di fare questo vlog pianificazione quindi ragazzi siccome sono nebbia e non sono peppe ma prima ricordatevi che se il video vi è piaciuto dovete mettere mi piace se il video non vi è piaciuto dovete mettere mi piace ricordatevi di commentare condividere iscriversi ai canali e alle pagine di facebook e agli altri canali che trovate in descrizione come al solito adesso siccome sono peppe e non sono nebbia anche perché peppe non può caricare video appunto di nuovo ci tengo a sottolinearlo sta cosa non è che non vuole non può per la seconda volta come in tutti i video per questo video è tutto quindi ciao a tutti i ragazzi buon giorno a tutti i giorni e buon match a tutti gli altri e al prossimo video ragazzi ricordatevi spero di mettere più video possibile sul canale ciao e alla prossima